Si torna alla Benelli per il Ravenna e i giallorossi si auguravano che le circostanze fossero ben differenti rispetto all'ultima volta. All'epoca era il debutto di campionato e la squadra di Mauro Antonioli pagò a caro prezzo l'emozione dell'esordio, incassando una sconfitta col Prato, quella poi cancellata dalla grande vittoria ottenuta nel derby di San Mauro. Quest'oggi toccava a un'altra avversaria toscana, il tutto cuoio di San Mignato. Intanto abbiamo visto il minuto di raccoglimento che è stato rispettato su tutti i campi di calcio dedicato al grande Totò Schillaci, mentre il direttore di gara è pronto dunque a dare il via al match ed è pronto a vedere quello che accade nel corso di un primo tempo bloccatissimo in Ravenna. Fa fatica a mettere in movimento le proprie bocche da fuoco, qui c'è il cross di Rapai, senza dubbio il migliore in campo del Ravenna, che trova per destinatario d'Orsi sbaglia il 23, così come sbaglia successivamente Manuzzi sull'imbucata di Nappello, ma il tutto cuoio resta sulle sue e quando si affaccia in avanti fa capire di essere pericoloso, soprattutto con i traversoni dalle fasce. Si va dunque all'intervallo con uno 0-0 praticamente scritto e il secondo tempo procede a strappi fino agli ultimissimi minuti di gioco, il Ravenna non riesce a sbloccarla, siamo così a 10 minuti dal termine e vediamo come invece il Ravenna riesca a trovare un episodio favorevolissimo, steso in area di rigore Paolo Rapai dal numero 2 Claudio H, calcio di rigore per il Ravenna. Dal dischetto si presenta Nappello, sblocca il match, il numero 10 del Ravenna, che trasforma dunque la sua esecuzione, il giocatore che sblocca il match e dopo poco verrà anche sostituito per un Ravenna che in quel momento forse anche un po' colpevolmente cerca di mettere i remi in barca, ma il tutto cuoio invece resta perfettamente in partita, si riaffaccia in attacco e trova il gol del pareggio, il colpo di testa di Damian Salto, nulla da fare per il portiere Fresia che si era disimpegnato ottimamente in precedenza, esultanza con la mitraglia di Battistuta per Salto, il rigore bis che ancora Rapai si conquista per il Mani di Russo, evidentissimo in area di rigore, questa volta c'è Manuzzi, è lui l'uomo della provvidenza, Francesco Manuzzi che segna il suo primo gol nella seconda vita da giocatore della Ravenna, eravamo sostanzialmente nei minuti di recupero che vengono allungati fino a 6 e poi arriva il triplice fischio del direttore di gara per il Ravenna, è una vittoria fondamentale, la prima di fronte al proprio pubblico.